Buonasera a tutti, agli ascoltatori di Radio Android, ringrazio Mario per l'invito, sono Daniele Lanave, un cantautore pugliese, la mia passione per la musica nasce all'età di tre anni, quando mi sono iscritto a una scuola privata di musica e ho iniziato a studiare pianoforte, chitarra e canto, successivamente mi sono sempre specializzato, quindi ho fatto delle masterclass con Sheryl Porter, con Beppe Vessicchio, quindi mi sono sempre più specializzato nel mondo musicale e negli strumenti e soprattutto nel canto. La mia carriera nasce, diciamo, per gioco, avevo l'età di 15 anni e il mio maestro di musica scoprì queste canzoni e mi disse fammene ascoltare una. Io gliela fece ascoltare e lui disse, cavolo sai scrivere bene perché non provi a fare dei concorsi canori o come cantautore. E quindi da lì è nata, dall'età di 13 anni è nata, quindi, diciamo, per gioco questa carriera, che non voglio chiamare carriera ma preferisco chiamarla per corso. Le mie ultime uscite musicali è il mio nuovo singolo che, nonostante il rumore, è dopo l'uscita dell'album che si chiama E.S.E., che è uscito nel 2017, appunto nel 2018 è uscito, nonostante il rumore, che è il mio nuovo singolo. Il mio nuovo singolo che nasce da un desiderio di rinascita dopo un periodo di buio. Si può trovare su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Deezer, iTunes, Google Play e si possono trovare anche il videoclip di questo singolo e i videoclip dei precedenti singoli su YouTube. Quindi basta trovare Daniele Donanave e sono quindi su YouTube, su Spotify, su iTunes, su Deezer, su Facebook, su Instagram, quindi su tutti i canali social. Nel mondo della musica mi piacerebbe collaborare con, diciamo, non ho un artista preferito, ma mi piacerebbe collaborare un po' con tutti. Quelli comunque che hanno fatto la storia italiana, come Zucchero o Ligabue, quindi, diciamo, non ho riferimenti, però, diciamo, mi piacerebbe lavorare con i miti della musica italiana. Le caratteristiche che deve avere un cantante sono, nel mio caso, un cantautore deve saper scrivere, deve saper emozionare ed emozionarsi. I sogni che vorrei realizzare nella mia carriera sono soprattutto calcare il palco dell'Ariston, ma se non dovesse succedere quello, comunque far conoscere la musica sempre a più persone possibili e magari, chissà, cantare a 10.000 persone, 20.000 persone. Ecco, questi sarebbero i miei sogni, ma il sogno principale è calcare il palco del Festival di San Rimo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Android, ringrazio nuovamente Mario e vi mando un abbraccio e buona serata a tutti.